un saluto ad alex gaudino e benvenuto sui music fan ciao ciao a tutti guarda innanzitutto è un piacere trovarti anche perché comunque tu hai veramente scritto la storia della della musica ed è un piacere poter chiacchierare con te anche di questo di questo nuovo singolo addirittura grazie beh la storia diciamo che appunto un genere musicale deve sicuramente moltissimo te e alle tue intuizioni ma poi avremo modo di parlarne durante questa chiacchierata comunque ai labius anni cosa rappresenta nel tuo percorso artistico questo questo pezzo è una progressione di nuove produzioni nuove situazioni che stiamo portando avanti cercando di rimanere comunque attuali sul mercato e con un occhio le cose chiaramente che principalmente piacciono a me insomma come gusto personale sia come produzioni che come come dj insomma beh anche perché comunque uno dei fili conduttori della tua carriera è sempre stata comunque la curiosità la volontà di sperimentare a volte e l'ho dimostrato negli anni comunque con quell'occhio di chi sa guardare avanti ci c'è non so se non è una cosa voluta cioè nel senso non è che anche perché probabilmente sono cose che volevi non le hai però non è stata una cosa no io devo guardare avanti quindi sai certo ho sempre avuti ho avuto dei punti di riferimento insomma miei quindi tipo guardare quello che succede in inghilterra quello che succede negli stati uniti sai mercati comunque di riferimento per quello che ci riguarda e per quanto riguarda questo nuovo singolo comunque sei andato a riprendere un'iconica traccia di bonnie m come mai hai scelto proprio di lavorare su questo tipo di pezzo e soprattutto come hai scelto anche i collaboratori ma sinceramente io sto producendo tantissime cose questa una delle tracce che abbiamo in lavorazione e ci sembrava giusto farla uscire a ridosso dell'estate perché la sentiamo molto appunto molto estiva e e quindi ecco questo è stato un po c'è la scelta del sample e come dire non è casuale comunque è frutto di una ricerca è frutto di un ragionamento cioè non penso che abbiamo scoperto l'acqua calda però comunque sai ecco come ti dicevo nella visione del appuntamento con l'estate pensavamo che ci calzasse bene insomma diciamo che negli ultimi anni abbiamo assistito comunque ad un ad un vero e ritorno comunque le sonorità degli anni 80 e 90 nella musica di oggi ma qual è il tuo punto di vista della scena musicale odierna è tutto molto complicato soprattutto dal punto vista discografico perché soprattutto grazie o a causa delle nuove piattaforme nuove mica tanto perché ormai stiamo parlando di piattaforme che esistono già da così decenni decenni un decennio abbondante si esatto quindi c'è un po sai che su spotify solo escono tipo 60 mila tracce al giorno quindi se fai un calcolo matematico sono 500 mila circa nuovi dischi a settimana che è un numero folle se pensi alla discografia di una volta dove e questo qui e questo chiaramente va a scapito della qualità e delle 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 releases che cosa succede che per emergere in questo non so in cos'è laggiù non so cosa è veramente complicato e soprattutto devi stare molto devi essere molto prolifico quindi pubblicare praticamente non dico un disco al mese ma quasi e che è un po mi trova non sono molto d'accordo con questo perché poi esistono anche altri mezzi di comunicazione che ancora oggi funzionano come la radio per esempio e che fanno anche a volte fatica a programmarti tutti i dischi che fai ma perché chiaramente un palinsesto è una programmazione in una playlist è ovvio che non puoi mettere cioè dopo un mese che stai suonando un disco è ancora nuovo non è vecchio invece con la teoria delle 500 mila dischi all'anno a settimana è complicato oggi diventa complicato anche c'è anche scegliere però c'è da dire che forse negli anni 90 c'era forse anche più più coraggio da parte sia forse di editori radiofonici ma anche forse di discografici comunque c'erano le etichette che comunque andavano a sperimentare e c'era forse anche una ricerca differente assolutamente sì il cambiamento dei giorni o di ieri è che c'è butti fuori qualsiasi cosa perché non si sa mai che cosa può succedere perché la traccia diventa virale su tiktok piuttosto che e quindi sai non fai più selezione praticamente butti fuori tutto e sicuramente per le case discografiche per le piattaforme è un grosso business per noi artisti produttori è un po più complicato insomma perché riuscire ad emergere anche per i giovani o comunque anche per quelli con me che hanno una storia non è semplice certo diciamo che anche nel tu hai fatto riferimento agli stati uniti e all'inghilterra regno unito che appunto una volta potevano essere un po forse riferimento oggi un po cambiato perché soprattutto per quanto riguarda il tuo genere musicale forse oggi c'è solamente l'olanda che ancora oggi forse programma e crede molto in quella che è la forza della musica dance no io penso che germania francia siano comunque ancora dei buoni mercati insieme con quello che ha detto dell'olanda ma gli stessi stati uniti voglio dire comunque diciamo che quelli una volta erano quelli di riferimento sai con le radio più importanti le case discografiche puntavano molto sulla dance o comunque sulla musica club e quindi però noi siamo abbiamo sempre la nostra piccola fetta di di mercato con i nostri produttori che sono comunque di altissimo livello perché comunque pensiamo medusa insomma voglio dire negli anni 90 ci sono stati tantissimi oggi un po di meno però comunque abbiamo dei rappresentanti di tutto rispetto assolutamente ma poi comunque abbiamo visto anche l'Eurovision Song Contest che comunque c'è la volontà di credere nella dance a parte quella che era questione olandese dove lì c'era proprio un pezzo che era un omaggio anche alla dance anni 90 tu cosa pensi dell'Eurovision Song Contest visto che comunque è una manifestazione che negli anni ha portato ha cercato di portare comunque avanti la dance come come genere è comunque una manifestazione importante vedi che c'è uno spostamento anche degli interessi degli artisti pop nella dance ancora di più che negli anni 90 basta basti pensare che tutti gli artisti pop adesso una volta c'erano le classiche ballad tu compravi un album di un grosso artista pop e sì magari c'era una traccia dance ma principalmente c'erano canzoni che sembravano poesie anzi lo erano e che ma che erano c'erano anche delle ballad della ballad per farla capire farlo capire a quelli giovani i classici lenti no ok adesso ovviamente quella cosa è sparita tranne qualche più unico che raro caso di artista pop però fondamentalmente sono tutte molto ritmate quindi fondamentalmente strizzano tutte la dance perché poi si proietta tutto sugli show sui live eccetera eccetera e ecco che questo è un po quello che penso stia succedendo ma non da ora insomma ci sono già diversi anni che questo è assolutamente così certo ma tra l'altro max pezzali recentemente ha proposto discoteche abbandonate cosa pensi di quel mondo che ahimè oggi non c'è più allora cosa penso io non voglio sembrare troppo nostalgico perché mi piace guardare avanti come dicevi anche tu prima e non dietro quelli quelle discoteche abbandonate sono il frutto di una mala gestione di una mi dispiace dirlo però anche poco professione propria professionalità è molto difficile mantenere un'azienda un club e farlo vivere per decenni è molto in italia forse che io conosca sono cinque sei casi di gestori di discoteca che sono ancora sul mercato quindi già questo è complicato perché perché ne è cambiato il pubblico perché è cambiato la società l'economia gestire comunque non club è molto costoso nel passato non sempre era fatto da professionisti imprenditori seri ma non voglio fare il solito discorso perché da quello che ho visto girando il mondo bene o male le persone che frequentano il mondo della notte sono sempre quelle cambiano la faccia il mio nome ma insomma è un mondo particolare quindi però io quelli veramente professionali li ho visti che esistono ancora certo che mi dispiace vedere dei club in cui ho suonato da ragazzino in quelle condizioni però probabilmente se avessi lavorato in un hotel o in un supermercato sarebbe stata cioè se andiamo a vedere quello che succede nella società mi sembra anche abbastanza normale sai ci sono industrie e fabbriche che spariscono smontano distruggono costruiscono palazzi che è il mondo che si muove no no certo ma è anche quella consapevolezza dei tempi che cambiano ma secondo te come mai negli anni comunque sempre tornando al discorso musicale ci sono sempre meno remix perché ricordo che i remix dance una volta erano comunque quasi all'ordine del giorno usciva un singolo e subito dopo arrivava un remix dance sono anche diversi i tuoi remix dance che sono entrati in classifica che a volte hanno avuto più successo dell'originale non saprei dirti probabilmente perché fondamentalmente è cambiato come dicevamo anche il proposito delle altre cose è cambiato semplicemente il mercato e abbiamo visto tantissimi esempi di dj americani o anche noi italiani insomma remixare comunque canzoni pop per farle diventare radiofoniche piuttosto che più ballerecce diciamo così però e oggi non so perché probabilmente sai l'utilizzo qual è poi sai c'è un altro punto dove voglio dire un po mi piace un po vedo troppo la mania di mesciappare qualsiasi cosa mettere insieme sei canzoni e poi butti tutto su internet tanto non ti fa niente nessuno quindi sai remix poi dopo che lo fai a fare se vai su youtube trovi 20 remix c'è anche il discografico che deve pagarti una cifra importante per fare un remix ci pensa due volte insomma succede ancora perché comunque mi capita che mi commissionino dei remix però come vedo altri miei colleghi però è talmente facile per un ragazzino per un comunque più chiunque di noi con un programma molto alimentare di software mettere sotto una base in quattro quarti un bpm da discoteca e farsi la propria versione da poter suonare quindi sai che dopo diventa l'investimento dov'è sì sì però diciamo che la differenza la si vede un po come dal vivo nel senso quando suonano i dj veri e coloro che appunto semplicemente premono un tasto ma oggi infatti ma anche appunto sono ancora tante le serate dove dove ti si può vedere protagonisti ma oggi qual è il profilo del pubblico che segue Alex Gaudino ma io penso che ho avuto dei feedback molto belli da sanni e questo mi ha fatto mi ha dato conferma che quello che sto facendo è quello giusto è la cosa giusta al di là dei risultati che poi vedremo arriveranno però la gente si aspetta da me di sorridere di ridere cioè in realtà io faccio musica spensierata come devo dire vedo sento sto disco quando lo sento in radio alzo il volume quando lo sento mentre sto correndo mi gaso e questo questo mi piace pensare che sia il mio pubblico insomma assolutamente ma oggi cosa ti diverte ancora nella nella musica visto che comunque hai fatto tantissimo e credo che tu non abbia nessuna intenzione di smettere proprio per quella per cui l'idea di guardare avanti cosa ti diverte ancora della musica ma io di quello che faccio mi diverte tutto altrimenti non lo farei mi diverte stare in studio mi dirette provare a scrivere nuove canzoni a produrre nuove nuova musica mi diverte tantissimo fare ancora dj avere contatto col pubblico viaggiare questo questo me lo sento ancora addosso mi dà molta carica aspetto ancora le serate con l'emozione delle prime volte quindi finché lavoro questo tipo di sensazione di stimoli la strada è ancora lunga insomma assolutamente io non posso che ringraziarti chiaramente invitiamo tutti i nostri lettori coloro che ci stanno guardando quest'estate poter ascoltare il più possibile sanni perché è un pezzo che dà la carica decisamente grazie grazie a tutti grazie mille anche te grazie grazie davvero